A tutti buonasera dal Centro Geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana. Vediamo però prima come di consueto il tempo sino ad oggi, venerdì 10 settembre. Abbiamo avuto in questa prima decade tre giorni con cielo sereno, poco nuvoloso, quattro giornate con cielo variabile e tre giorni con cielo molto nuvoloso o coperto. Pioggia caduta scarsa 3,5 mm. Il valore che ci attendiamo medio, calcolato con i dati degli ultimi 54 anni da quando iniziano le registrazioni del Centro Geofisico prealpino, per il mese di settembre ci fa attendere 133,2 mm. Per raggiungere questo valore di pioggia totale devono caderne ancora 129,7. Dall'inizio dell'anno si alza il deficit pluviometrico che raggiunge ad oggi i meno 163 mm. Le temperature che abbiamo registrato sono invece miti 21,5 gradi la temperatura media. Per l'intero mese qua a Varese la temperatura media sono 18 gradi. Per questo valore ha raggiunto sino ad oggi è superiore alla media di 3,5 gradi. La giornata con la temperatura più alta ha fatto registrare una massima di 26,5 gradi il 5 settembre. Il record per Varese sono 33 gradi, valore questo registrato il 6 settembre del 1988. La temperatura più bassa invece 15,5 gradi registrata sia il giorno 1 che anche il giorno 6 settembre. Il record per Varese 5,5 gradi, valore registrato il 27 settembre del 1972. Adesso possiamo passare all'immagine ripresa dal satellite Metasat da una distanza di 36.000 km dalla superficie terrestre. Vediamo nell'immagine la situazione sui nostri cieli alle ore 14. Troviamo un'area di bassa pressione che ha portato a delle infiltrazioni di aria umida nei bassi strati e questo ha portato a dell'aumento della nuvolosità che abbiamo avuto in questi giorni. Da partire da domenica però il promontorio anticiclonico di matrice africana si tornerà a rinforzarsi e quindi avremo nuovamente delle giornate soleggiate all'inizio, nel fine settimana e all'inizio della prossima settimana. In seguito invece un peggioramento con una bassa pressione che si porta verso la penisola iberica e porterà al passaggio di una perturbazione. Veniamo alla carta di domani sabato alle ore 14. Riportate in questa carta ci sono le isobere, linee che uniscono punti di uguale pressione atmosferica e i principali sistemi dinamici. Troviamo per domani l'area di alta pressione con un massimo di 1.15 pascala che andrà rinforzandosi un po' sul tutto il Mediterraneo e anche sul resto dell'Europa. Le perturbazioni collegate alla bassa pressione sulle isole britanniche e sulle isole scandinave scorrono a nord dell'arco alpino. Previsioni del tempo. La serata di venerdì vedrà ancora dei passaggi nuvolosi estesi, probabilmente asciutto ma possibile anche qualche rovescio, più probabile in montagna. Domani sabato una giornata inizialmente ancora con della nuvolosità residua, con possibilità nel corso della notte e anche all'alba ancora di qualche rovescio ma via via ben soleggiato e asciutto su tutta la regione, con formazione di cumuli nelle ore più calde sulla fascia alpina. Le temperature massime tra 26 e 29 gradi, le minime tra 15 e 18 gradi. Domenica una giornata ancora ben soleggiata con della nuvolosità irregolare in mattinata sulla fascia di pianura che tenderà poi comunque a dissolversi durante la mattinata. La giornata sarà ben soleggiata, qualche cumulo nel pomeriggio in montagna, temperature senza variazioni, massime tra 26 e 29 gradi, minima tra 15 e 18 gradi. Primi giorni della prossima settimana, lunedì avremo ancora ben soleggiato e asciutto con formazione di cumuli nelle ore più calde in montagna, le temperature senza variazioni. Martedì ancora inizialmente soleggiato ma avremo poi nel pomeriggio un veloce aumento della copertura nuvolosa e nel corso della serata prime piogge a partire dalla Lombardia ovest. Mercoledì una giornata con cielo molto nuvoloso coperto e con piogge che andranno a interessare un po' tutta la regione. Nella giornata successiva continuerà ancora il maltempo poi a partire da venerdì mattina nuovamente soleggiato. Con questo è tutto concluso, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci rivediamo la prossima settimana.